Rosa Mannetta, blogger, scrittrice, non solo partecipa a Lettere dal fronte, questo monologo con le letture poetiche. Intanto Lettere dal fronte significa ricordare e tramandare. Ricordare la grande guerra, le sofferenze e quindi tutto un mondo nascosto che non è di solito espresso. Noi la guerra adesso la stiamo vivendo di riflesso nella nostra Europa, però non è una guerra che ancora ci riguarda. Invece la grande guerra, la prima guerra mondiale ha coinvolto tanti italiani, tante famiglie e che dire, questi eventi vanno svolti perché la gente deve sapere, deve conoscere che cos'è il significato della parola guerra. La guerra non è una cosa bella, la guerra è sporca, porta distruzione, morte e anche morte non solo di vita ma anche di ideali, diciamo la verità, è così. A tal fine voglio ricordare Jack Kerouac che si è sempre lamentato dicendo nei suoi versi, America, ma cosa vuoi ancora da me? Io ti ho dato tutto.